Musica Le ambientalisti di ultima generazione, il blitz durante la messa di Natale e la Basilica del Santo di Padova. Ha suscitato non poche polemiche il cartello comparso sulla bacheca di una chiesa del centro di Padova che invitava i fedeli a non fare lemosina ai poveri. Vilenza di genere, tre uomini nel Padovano allontanati da casa nei giorni di Natale, intervento dei carabinieri per sedare una lite dal Begnasego, la moglie estremata denunce maltrattamenti. Natale di controlli per i carabinieri di Padova, arrestato uno spacciatore e fermato un 24enne armato di coltello dopo una lite in un parcheggio. Ma a cabro ritrovamento a Tribano, il sindaco ha trovato una nutia morta lanciata da qualcuno nel giardino della sua abitazione, la vigilia di Natale. Buone notizie per Bussi Italia. Arrivano finanziamenti cospicui dallo Stato per salvare il trasporto pubblico. Dopo le abbuffate natalizie, attenzione a come conservare i cibi regalati o avanzati durante i pranzi ai cenoni. TG Padova, buongiorno e ben ritrovati. L'avete sentito i nostri titoli in apertura a Natale, segnato dalle polemiche a Padova. Ma ci racconta tutto in diretta la nostra Valentina Visentino. Buongiorno Valentina, cosa è successo? Evidentemente Valentina sta cercando di collegarsi con noi. Proviamo un'altra volta. Valentina ci senti? Buongiorno Valentina. Altrimenti andiamo avanti con le notizie e poi torniamo con la nostra Valentina Visentino. Allora, parliamo di violenze di genere perché, l'avete sentito i nostri titoli in apertura, tre uomini nel Padovano sono stati allontanati da casa nei giorni di Natale. Sentiamo il servizio. Ha trovato il coraggio di raccontare i maltrattamenti che subiva da tempo i carabinieri intervenuti la mattina di Natale per sedare l'ennesima lite. Una donna, residente dal Bignase, in una giornata ha chiamato per ben due volte 112 per due liti furibonde con il convivente. Dopo l'ennesimo intervento, la vittima ha deciso di denunciare e raccontare ai militari una storia di sopprusi e maltrattamenti e così il compagno, trentenne, è stato allontanato d'urgenza dalla casa familiare. Ma questo è solo uno dei tanti interventi delle forze dell'ordine nei giorni di Natale per contrastare la violenza di genere. A Piovedissà, con 41 anni del posto, ha ricevuto il divieto di avvicinamento alla moglie e verrà monitorato con il braccialetto elettronico. L'uomo è ritenuto responsabile di comportamenti persecutori nei confronti della donna che lo aveva denunciato. Infine a Selvazzano, un 45enne, è stato allontanato d'urgenza dalla casa familiare perché in passato era stato denunciato per le continue minacce fisiche e verbali e le vessazioni psicologiche a cui sottoponeva la compagna. E lo spaccio di droga non si è fermato a Natale. I carabinieri hanno arrestato uno spacciatore e segnalato alla prefettura due assuntori di 22 e 24 anni scoperti mentre stavano effettuando uno scambio. L'arresto, un 24 anni italiano, in tasca, aveva bustine di marijuana e cocaina. I carabinieri hanno perquisito la sua abitazione trovando altre sostanze stupefacenti. In totale sono state sequestrate 24 pastiglie di MDMA, chetamina, hashish, marijuana e oltre 300 euro proventi di spaccio. Andiamo avanti con la cronaca alite nel parcheggio di un fast food a Ponte di Vigo d'Arzare. Sentite. Momenti di tensione la sera di Natale davanti al parcheggio di un fast food di Ponte Vigo d'Arzare. I carabinieri sono intervenuti notando un gruppo di giovani che stava litigando. Tra di loro c'era anche una persona armata. I militari hanno trovato un 24 anni del Congo, residente a Cadonega, armato di coltello. Pochi minuti prima, con l'arma, aveva minacciato di morte un tretottenne che si trovava nel parcheggio. Lo straniero ha cercato di divincolarsi e scappare al controllo, ma i carabinieri l'hanno fermato, sequestrando un coltello con una lama di 18 centimetri. Il 24 anni congolese è stato denunciato per resistenza pubblico ufficiale, minaccia e porta abusivo di armi. Lo abbiamo raccontato poco fa a Natale, segnato dalle polemiche a Padova, ma ci racconta tutto la nostra Valentina Visentini in questo momento in diretta. Buongiorno Valentina. Buongiorno da Padova, davanti alla Basilica del Santo, dove c'è stata durante la messa di mezzanotte della vigilia di Natale il blitz degli attivisti di ultima generazione. Una dei due fatti che ha segnato il Natale padovano. Gli attivisti sono entrati in chiesa verso la fine della cerimonia per rotolare uno striscione di protesta. Ma ricostruiamo quanto è accaduto la notte della vigilia di Natale alla Basilica del Santo nel servizio di Francesco Ratai. Nuovo blitz degli attivisti di ultima generazione a Padova. Nessun blocco del traffico, questa volta per gli ambientalisti, che hanno però cercato di interrompere la messa di Natale nella Basilica di Sant'Antonio. Subito dopo la comunione, durante la celebrazione di mezzanotte, davanti a centinaia di fedeli, una ragazza si è inginocchiata davanti all'altare della navata centrale. Voleva prendere la parola, ma non c'è riuscita. Gli usciri del Santo hanno spostato la ragazza e fermato un secondo manifestante che esponeva un cartello con scritto Gesù nasce, il pianeta muore. Entrambi i giovani, minorenni, sono stati accompagnati fuori dalla chiesa e consegnati alla Digos Padovana, che li ha denunciati per manifestazione non autorizzata e turbamento di funzione religiosa. Noi siamo visti come criminali, ha dichiarato uno dei due attivisti, ma abbiamo interrotto una messa lanciando un messaggio di pace, perché questo non è un Natale gioioso. Questo è dunque il primo fatto, la seconda polemica, quella che riguarda un cartello comparso il giorno dell'antivigilia di Natale in un'altra chiesa del centro di Padova, stiamo parlando della chiesa di Santa Lucia, dove è comparso un cartello chiedendo ai fedeli di evitare di fare l'elemosina ai mendicanti. Ovviamente questa scelta ha creato non poco dibattito sia tra i cittadini, ma anche tra i religiosi. Questo il Natale padovano, segnato comunque da una forte presenza in città di turisti. Ma ricostruiamo anche la polemica sull'elemosina nel nostro servizio. Io restituisco la linea allo studio. I fedeli sono pregati di non dare l'elemosina ai mendicanti in chiesa e nemmeno nei dintorni. Il cartello nella bacheca della chiesa di Santa Lucia in pieno centro a Padova nei giorni che hanno preceduto il Natale ha creato non poche polemiche in città. Un avviso che ha stupito e fatto discutere, visto che è apparso nel giorno dell'antivigilia di Natale, soprattutto nella bacheca di una chiesa, luogo d'eccellenza e della carità. Nella zona gravitano alcuni mendicanti che sostano nei granditi della chiesa, che è sempre aperta per accogliere i fedeli anche fuori dagli orari delle celebrazioni. Stupito e scandalizzato di questo messaggio, si è detto Don Albino Bizzotto, che ha fondato l'associazione Beati Costruttori di Pace. Sul fatto è intervenuto anche Don Giovanni Brusegan, teologo e rettore della Cappella Universitaria di San Massimo a Padova. Mi pare corretto da parte mia intanto precisare che bisognerebbe chiedere direttamente, conoscere meglio il caso, il contesto. Ciò non toglie però che dobbiamo fare delle valutazioni molto importanti, molto serie perché per noi amare il prossimo, aiutare chi ha bisogno, vedere Gesù nell'altro fa parte costitutiva, alternativa e profetica del messaggio cristiano. Quindi prima che possiamo disdire questi precetti, questo comandamento nuovo di Gesù dovremmo avere delle motivazioni molto importanti. Il confine tra il diritto e il dovere di amare, che non ci viene mai tolto, è quello della paura, dell'insicurezza, della garanzia di essere, per così dire, rispettati. Nel contesto specifico credo che i dintorni non siano nelle mani della giustizia di un'eventuale parrocchia, chiesa, ma vadano vigilati da chi di dovere. Bisogna che stiamo attenti nel nostro paese di non cadere nella dabbenaggine, ma nello stesso tempo di non perdere l'educazione al rispetto, alla dignità di ciascuna persona, indipendentemente dal colore, dalla religione e dallo stato che sta vivendo. Grazie alla nostra Valentina Visentini per averci raccontato la cronaca di questi giorni a Padova. A proposito di cronaca, ci spostiamo a Tribano, orribile scoperta davanti alla porta dell'ingresso del sindaco. La sera della vigilia di Natale qualcuno infatti ha gettato una nutria morta davanti all'abitazione del primo cittadino Massimo Cavezzana. Il sindaco ha denunciato ai carabinieri e sui social l'accaduto. Buone feste anche a voi che avete fatto questo gesto, gettando all'interno del viale di casa mia un animale morto la notte di Natale. Non è la prima volta che qualcuno attacca in forma anonima il sindaco. Due anni e mezzo fa, infatti, Cavazzano aveva ricevuto una lettera anonima con minacce di morte, ma in seguito non si erano più verificati simili episodi. Cambiamo decisamente argomento. Buone notizie per Bus Italia. Sentite. Il PNRR dai finanziamenti ministeriali arriva una boccata d'ossigeno per risanare Bus Italia, acquistando 180 nuovi bus per far fronte alle spese di carburante e alle perdite derivate dalla crisi del trasporto pubblico durante la pandemia di Covid. Il comune di Padova e la provincia hanno presentato le linee guida dell'accordo per risanare Bus Italia, che ha un buco di circa 18 milioni di euro. Questo accordo si basa fondamentalmente sul fatto che siamo stati premiati come città e come provincia, sono stati assegnati quasi 70 milioni di euro per contributi di nuovi bus, che per l'urbano saranno fondamentalmente elettrici, quindi andiamo verso una flotta quasi esclusivamente elettrica. Questi fondi permettono all'azienda di avere più ossigeno e quindi di tornare a reinvestire sul trasporto pubblico. Già negli ultimi mesi avevamo avuto degli ottimi segnali, siamo quindi fiduciosi di metterci alle spalle la fase Covid, che era stata molto complicata per quanto riguarda il trasporto pubblico a causa del calo dei passeggeri. Corse tagliate, ritardi, carenza di personale, la crisi di Bus Italia era diventata una delle questioni prioritarie per il Comune e la provincia da risolvere per salvaguardare il trasporto pubblico locale. Con questo accordo che l'azienda dovrà sottoscrivere, l'iniezione di ossigeno potrebbe portare anche all'assunzione di nuovi autisti. Si sta tornando ad assumere, piano piano i numeri, anche se lentamente, stanno tornando a crescere. Ci sono buone prospettive per il prossimo anno e chiediamo che, avendo essere a un passo praticamente dell'accordo, permetta anche a Bus Italia di avere più tranquillità e quindi tornare a investire anche su questo aspetto. Quindi anche qui ci attendiamo nei prossimi mesi di novità positive. E l'economia padovana guarda il 2024 con ottimismo. Sentite. L'economia padovana cerca l'ottimismo nell'anno 21, oppure in un momento complicato si può guardare con fiducia al 2024. A dirlo i dati elaborati da Fabrica Padova, centro studi di Confapi, che come da tradizione a dicembre ha messo in fila i principali indicatori economici del territorio in vista di un anno particolarmente importante anche dal punto di vista politico, con le elezioni europee a giugno e le amministrative che coinvolgeranno 310 comuni veneti e 52 comuni padovani. Mentre già afferve il dibattito sulle elezioni regionali del 2025 incentrato sulla questione del terzo mandato. Quello della stabilità è un'esigenza assoluta, soprattutto dopo periodi come quelli che abbiamo passato tra pandemie, guerre e altre difficoltà, la crisi delle materie prime e dell'energia, c'è bisogno di stabilità, perché solo nella stabilità si può costruire un'idea di futuro, si può progettare e soprattutto si può continuare a investire anche. Stabilità vuol dire che non bisogna lasciarsi guidare dalle motività o dalle ideologie o dal tifo quasi calcistico che purtroppo in Italia è sviluppato in tantissimi settori e invece chiedersi che cosa possa andare bene per affrontare le cose che arrivano. Le imprese chiedono stabilità ed interlocutori certi, perché i dati che arrivano dalle imprese sono discordanti. Da un lato, nel terzo trimestre del 2023, la produzione industriale e manufatturiera in Veneta riporta una variazione del meno 2,7% rispetto al terzo trimestre del 2022. Una tendenza che si riscontra anche nel territorio padovano, nel quale il numero delle imprese sono leggermente calate. I segnali incoraggianti però arrivano dall'export. Ci sono dei segnali perché tutto quello che è stato rallentato nel 2023 troverà probabilmente compimento nel 2024. Quindi ci sono molte trattative per varie attività in vari settori che erano rallentate o congelate, che poi invece dovrebbero partire e dipanarsi durante l'anno che viene. Sulla bilancia poi ci sono i numeri delle assunzioni in positivo rispetto al saldo con le cessazioni dei rapporti, ma la fine del 2023 resta un anno incerto. C'è un po' di incertezza ma c'è anche molta fiducia, anche perché senza fiducia non si trova l'energia per fare le cose. L'anno 2023 è andato come purtroppo più o meno si immaginava, è stato un anno molto duro, però le aziende strutturate lo sapevano, erano preparate e quindi l'hanno superato bene perché bisogna superare i momenti difficili perché questo lo dobbiamo a noi, alla nostra gente, alle nostre famiglie e a tutto l'impegno che ci abbiamo messo fino adesso. Voltiamo pagina, lo sapete, il Natale, periodo di grandi abbuffate ed ecco i consigli per conservare meglio i cibi. Tra i regali più gettonati a Natale ci sono senza dubbio i prodotti della gastronomia, dolce o salato, l'imbarazzo della scelta, un pandoro, dei biscotti insaccati o sottogli, tante le idee regalo, spesso acquistate online. Ecco allora alcune avvertenze proposte dagli esperti dell'Istituto Zoo Profilattico di Legnaro. Dobbiamo innanzitutto ricordarci che i cibi secchi e confezionati non sono mai un rischio per la sicurezza alimentare. Penso ai biscotti, alla pasta, al pandoro, al panettone. Questi possiamo acquistarli e regalarli senza nessun problema. Diverso invece se decidiamo di regalare degli alimenti freschi, formaggio fresco, pesce crudo, salmone, prodotti a base di uova. Cenoni e pranzi poi sono il regno della varietà gastronomica. Anche in questo caso bisogna porre massima attenzione nella preparazione dei prodotti a base di uova o fatti in casa. Dobbiamo sempre stare attenti agli alimenti freschi. Rischiosi sono gli alimenti a base di uova crude. Mi riferisco al tiramissù, ad esempio alla maionese. In questo caso dobbiamo farli con uova appena acquistate, freschissime, tenerli in frigorifero fino al momento del consumo e nel caso in cui avanzino mantenerli comunque in frigorifero e consumarli entro le 24 ore. Le conserve sono un alimento a rischio perché possono essere causa di botulismo che è una malattia gravissima. Quindi non scherziamo con le conserve. Acquistiamo quelle industriali che sono sempre garantite. Se le facciamo a casa va bene se facciamo i sottaceti. Se facciamo dei sottoli, tanta attenzione. Se non siamo sicuri di saperlo fare bene, lasciamo stare. Importante poi la conservazione dei cibi cotti o crudi che avanzano. Il mio primo consiglio è sempre quello di cercare di non avanzare il cibo. Quindi facciamo la spesa in modo intelligente comprando quello che ci serve e cerchiamo di non avere avanzi. Nel caso in cui li avessimo, se sono alimenti poco a rischio, quindi alimenti ad esempio formaggi stagionati o prodotti cotti, possiamo conservarli in frigorifero. Se sono prodotti più a rischio, come ad esempio il tiramissuo o la maionese fatta in casa, io consiglierei di non conservare questi avanzi. Dispiace, ma in alcune situazioni forse vale la pena buttarli. Apriamo ora la pagina della cultura in questo periodo di feste. A Padova, musei gratis per i residenti. Assaporare l'arte e la cultura anche a Natale. Per i padovani torna l'offerta di visitare gratuitamente i musei cittadini nel periodo natalizio che quest'anno offre bellissime mostre. Rimane sempre per i padovani e i turisti la possibilità di vedere il museo Pedrocchi, che a tutti gli effetti è un museo, un tempio della cultura, e in particolare il museo del risorgimento. Rimane ovviamente quello che è il luogo simbolico della nostra città, che è il palazzo della ragione. Luoghi aperti ai turisti, ma con una particolarità, siccome siamo in periodo natalizio, da oggi fino al 7 gennaio, tutti i padovani di Padova Comune e Provincia di Padova avranno la possibilità, esclusa la Cappella degli Scrovegni, di visitare gratuitamente tutti i musei civici, quindi la mostra di Giotto, il museo degli Eremitani, il palazzo Zuckerman, il museo del risorgimento del Pedrocchi e ovviamente il palazzo della ragione. Oltre ai luoghi classici della tradizione padovana, in città sono aperte mostre temporanee di grande rilievo, come l'ultima dedicata al modernismo francese, inaugurata lo scorso 16 dicembre a Palazzo Zabarella. Abbiamo la bellissima mostra di Palazzo Zabarella, da Mone a Matisse, ormai Palazzo Zabarella si caratterizza come uno dei principali poli delle politiche espositive in città. Abbiamo una mostra assolutamente inedita e originale al Museo Civico degli Eremitani, si chiama Lo Scatto di Giotto, ed è una mostra dove per la prima volta, prodotta localmente dal nostro staff scientifico, dove per la prima volta viene raccontato il rapporto controverso e affascinante tra la Cappella degli Scrovegni, il tentativo da un lato di salvarla, dall'altro di venderla agli inglesi, e le fotografie in questa storia e le immagini hanno veramente una funzione strategica importante. Lo Scatto di Sotto agli Eremitani, una bellissima mostra dedicata al nostro grande eroe padovano, ma che è una figura internazionale, che è Giovanni Battista Belzoni. Abbiamo ovviamente i fumetti della Bonelli a Palazzo Zuckerman. Da Padova è davvero tutto, grazie per averci seguito e un buon pomeriggio a tutti voi. Grazie a tutti.